Ancora 30 secondi al primo passaggio Teniamo l'antaglia che vedremo in passaggio 13 secondi al cambio 10 secondi al cambio 5, 4, 3, 2, 1 Cambio! Secondo stoppettista! Vediamo la red di Pottinia ripartire subito e cercare di andare a recuperare sull'antaglia del tempo che mantiene la prima posizione Tenere Remo sembrerebbe in seconda posizione in terza posizione la canosseria a vita la pandemia del Remo mantiene la prima posizione 15 secondi al cambio 10 5 3, 2, 1 Cambio! 2 minuti metà a gara a 2 in vantaggio la cabella del Remo si al piede del Remo il segno del partner dei Magri è ancora più da ragionarsi con il sasso al vento finale si è successo eh? 3 secondi al cambio 3 secondi al cambio 5 secondi al cambio 4, 3, 2, 1 Cambio! Ultimo minuto ultima frazione un'altra volta in vista un'altra volta in vista vediamo a canale del Remo ancora al comando vediamo la tivere del Remo che sta recuperando tenza posizione per la Regne 4 per la vita a seguire il segniato liceo artistico di Menni e indietro Lazio missione sportiva in tutto il gioco ultimi 25 secondi vediamo se la Devo riesce a fare con il set alla cadena del Remo ma anche per la terza decisione è ancora tutta la giocare 10 secondi nel continuo ritardo 5, 4, 3, 2, 1 è stata una venti ultima giornata di sport passifica finale unicesimo posto 654 metri benzina la spezia decimo posto 771 metri la missione sportiva di Sanzana nono posto 772 metri punti in gioco metri ottavo posto sulle liceo 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 della